Come abbiamo visto nel video precedente, la carrucola mobile può traslare in alto e in basso, oltre che ruotare. La parte bloccata al sostegno è l'estremità di questa corda a sinistra, questo rappresenta il soffitto o il sostegno, mentre la forza motrice viene applicata dalla parte opposta. Per equilibrare la forza resistente è data da due forze, la forza peso della carrucola, in questo esempio 0,1 N, più i pesetti che sono agganciati nel centro della carrucola, per esempio 1 N di peso come nel filmato. La cosa importante da capire è che il centro di rotazione istantaneo non è il centro della carrucola, ma è questo punto O che si trova qua sul bordo. Infatti la carrucola può ruotare in senso orario o anti-orario, se ruota in senso orario si abbassa, il suo baricentro scende, ruotando però attorno a questo punto, esattamente come farebbe una ruota che rotola giù da una parete, mantenendo però sempre il contatto con la parete stessa in questo punto. Un attimo dopo, quando la carrucola ha ruotato un pochino, questo punto scende un po' e si abbassa continuamente traslando verso il basso. Viceversa, se la carrucola viene fatta ruotare in senso anti-orario perché la forza motrice solleva questo cavo, allora il centro di rotazione istantanea sale progressivamente. La carrucola in pratica è come una ruota che corre e questa è come se fosse una strada. Il punto di contatto si muove sulla strada, sia in alto che in basso. Quindi questo è il fulcro, infatti il fulcro è quel punto attorno al quale può ruotare, ruota l'intero corpo rigido e tutta questa carrucola, quando scende e quando sale, non ruota intorno al centro, ma ruota intorno a questo punto fisso qua. Per esempio, quando scende, tutta questa carrucola ruota intorno a questo punto così, quando invece la carrucola sale, tutta quanta la carrucola ruota sempre intorno a questo punto in senso anti-orario. Quindi questo è il fulcro. Allora i bracci vanno misurati a partire da qui e non dal centro, perciò il braccio della forza motrice che agisce lungo questa retta, della forza resistente voglio dire, che agisce lungo questa retta è pari al raggio, mentre invece il braccio della forza motrice, forza motrice che agisce lungo quest'altra retta, il suo braccio è pari al diametro, 2R. Perciò la carrucola mobile è una leva vantaggiosa di guadagno 2, perché il braccio della forza motrice è il diametro, è il doppio del braccio della forza resistente che è il raggio. Del resto che si ha una leva vantaggiosa è ovvio, perché è una leva di secondo genere. Infatti, tra il fulcro e la forza motrice, in mezzo c'è la forza resistente. Siccome la forza motrice ha un braccio doppio rispetto al braccio della forza resistente, allora la forza motrice può essere la metà intensa rispetto alla forza resistente, che è in questo esempio 1,1 N. Cioè la somma dei pesetti e del peso della carrucola. Perciò la forza motrice può essere la metà, sarà la metà 0,55 N. Dunque la forza motrice è la forza resistente, che è la somma di questi due, diviso 2. La forza vincolare innanzitutto va applicata nel fulcro, quindi non nel centro della carrucola ma nel punto O. E il suo valore è sempre uguale a quello della forza motrice, come indicato qua. Proprio perché la forza motrice è la metà della forza resistente. Dunque l'altra metà che serve per compensare ed equilibrare tutte le forze, la mette la forza motrice. Tra poco vedremo che infatti l'esperimento conferma questi valori numerici. Infine notiamo che la carrucola mobile è rovesciata rispetto alla carrucola fissa, cioè questo supporto è rivolto verso il basso e a questo supporto si agganciano i pesetti, mentre invece nella carrucola fissa il supporto era rivolto verso l'alto e serviva per agganciare la carrucola e fissarla al sostegno. Grazie 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 Grazie